Da parte del Comune il monitoraggio del servizio è continuo ma la siccità che sta coinvolgendo l'intero territorio siciliano e il conseguente continuo calo delle falde acquifere non possono che determinare qualche disservizio che deve essere però ben gestito. Si raccomanda quindi nuovamente di utilizzare l'acqua con il rispetto di questa risorsa e degli altri cittadini evitando usi inopportuni. Questo in sintesi il messaggio del sindaco di Ragusa Peppe Cassì merita le recenti criticità registrate nel territorio comunale. Nel registrare un calo piezometrico delle falde acquifere dei pozzi spiega Cassì la scelta di Bleacqua è stata quella di evitare i disservizi innanzitutto a Dibla in centro per due ragioni. Non paralizzare ristoranti e strutture ricettive, la grande difficoltà del gestire eventuali disservizi con i servizi a autobotte in centro e a Ibla. In ogni caso Sabba Diblaacqua ha eseguito un intervento di potenziamento delle poppe per riuscire a riempire il recipiente brusce. Per intenderci riuscire a riempire il recipiente brusce significa avere una buona pressione in distribuzione per le zone brusce, ramelli, via Germania e via Terranova. Il potenziamento è andato bene ma un guasto inottato ad un trasformatore ha rallentato il beneficio che si dovrebbe comunque avere tra 24 e 36 ore. In questo momento le pompe funzionano con il supporto di un gruppo elettrogeno. Sempre nel pomeriggio di sabato è stata ripristinata la funzionalità del posto principale di atteggimento dell'impianto di conta da Lusia. Il minor quantitativo di acqua immesso durante il guasto potrà determinare disservizi lungo la rete di distribuzione che si risolveranno progressivamente. Abbiamo evidenziato Iblaacqua e le lamentele ricevute per le gravi carenze nella gestione delle telefonate e richiesto di porre rimedio. Iblaacqua mi ha spiegato, conclude Cassì, che c'è un problema di stacco telefonico quando gli operatori sono impegnati ma che già da lunedì i problemi al centrale non saranno sistemati. A Marina di Ragusa al momento non si registrano criticità.